Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi farò vedere i miei acquisti fatti da Kiko per i saldi. Con lo sconto del 30% ho preso alcuni prodotti della collezione estiva. Ho preso le liner nella colorazione numero 3. Viene in confezione 0,3 grammi ed ha una durata di 24 mesi dall'apertura. Alla colorazione numero 3 è la colorazione marrone. Già l'ho provato e mi sono trovata benissimo. Ha un bellissimo colore ma anche l'applicatore mi piace molto. È un eyeliner con un applicatore in penna. Ne è troppo sottile, è un po' spesso ma è molto scorrevole e morbido. Guardate, ha una colorazione molto bella in quanto è un marrone non troppo scuro e neanche troppo chiaro. Mi piace molto. Ha un'asciugatura rapida ed è resistente all'acqua. L'ho pagato 4,89 euro. Mi sono trovata talmente bene che adesso andrò a comprare sia la colorazione nera ma di nuovo acquisterò un altro di questo, del numero 3. Perché mi trovo molto bene. Poi ho acquistato un rossetto e la sua matita abbinata. Ho preso la colorazione numero 3. Vi è 1,8 grammi di prodotto ed è 18 mesi dall'apertura. Allora, il rossetto è un rossetto matte non transferred che dura fino a 12 ore. L'ho pagato 6,99 euro. Ho preso appunto la colorazione numero 3 ed è un colore molto particolare in quanto è questo colore rosa ma con una punta di corallo. Guardate che bello. Vi faccio vedere lo swatch. Guardate, allora, è questo bellissimo rosa. Vedete che bello? E ha una punta di corallo e lo trovo un rosa perfetto per l'estate. Allora, è una texture cremosa, molto scorrevole, completamente matte. Una volta asciugato si fissa. La matita abbinata appunto è questa la numero 3 ed è... è 6 mesi dall'apertura. E allora, è questa la matita. Allora, come vedete la matita è leggermente più scura. Anche essa è a lunga durata e dura 12 ore. È morbida, scorrevole, ma poi si fissa. Una volta che si asciuga si fissa anche questa. Devo dire che è molto bella. Come tutte le matite della Kiko, delle collezioni, mi piacciono tutte. Infatti, quando escono le collezioni limitate, io acquisto sempre le matite. In quanto sono belle sia accoppiate al rossetto, ma anche da sole. Le metto tranquillamente. durano e poi le strucco. Sono veramente ottime. Poi ho voluto prendere della collezione permanente questo gloss. La numerazione è numero 4 ed è 3D Hydra. L'ho acquistato per mia figlia. E questa colorazione è un color pesca. Un rosa pesca. L'ho pagato 5,59 euro. Guardate che bello. Vedete che bello. È pieno di glitter. Di microglitter. Che dire, questo è giallo. Ne ho acquistati tanti altri. Mi trovo benissimo. Quindi, quando ci sono i saldi, ne approfitto. E prendo altre colorazioni. Poi ho acquistato, della collezione Tuscan, questo smalto. L'ho pagato 2,50 euro, in quanto era al 50. È la collezione numero 001 ed è un colore rosa. È questo appunto che indosso. Come vedete, non è pieno come colore. Mi aspettavo che fosse più pieno, come presente appunto qua nella bottiglietta. Ma in realtà è un rosa latte trasparente. Un rosa lattiginoso, ma è appunto trasparente. Queste sono due passate. Quindi non è coprente. Poi ho acquistato questa matita, della collezione Sicile Nute. Questa l'ho pagata 2,50 euro. Ed è la matita nella colorazione 04. Questa l'ho già trovata. Ed è molto bella. Guardate che bel colore. È questo bellissimo color corallo. Io ho diversi prodotti di questa collezione. Devo dire che è una delle collezioni più belle che ha fatto Kiko. Soprattutto per quanto riguarda anche matite e rossetti. Infatti quando trovo i prodotti, li acquisto volentieri. Già questa matita l'avevo acquistata, l'avevo terminata e quindi ho voluto riprenderla. Se le trovate ve le consiglio, prendetele. In quanto sono molto belle. Sono belle sì, appunto, associate a rossetti e da sole. In quanto sono molto morbide, scorrevole e si fissano poi. Sono veramente belle. Che dire? Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like. E se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!